L'inizio del nuovo anno può essere un momento per pensare e programmare progetti per il futuro, come per esempio l'affitto o l'acquisto di una casa. Si preferisce dirigersi verso il mutuo oppure si pensa all'affitto. Ecco le voci dei passanti. Buongiorno, mutuo o affitto? Cosa preferisce? Mutuo. Perché? Perché poi la casa è mia. Affitto. Perché? Perché il mutuo, troppe tasse, troppe cose, meglio l'affitto, poi una volta che non piace più la casa uno si sposta. Affitto? Perché? Perché è più comodo? Non ho proprietà e va meglio così. Sarebbe meglio mutuo, io però sono in affitto ma decisamente mutuo. Perché mutuo? Perché comunque è come un affitto però alla fine ti ritrovi una casa tua, invece l'affitto sono soldi proprio buttati via. Però non è sempre possibile fare quello che uno desidera. Mutuo. Perché? Perché? Chi ha i soldi per comprare una casa tutta intera subito? No, io sono proprietaria per fortuna, non ho nulla delle due cose. Casa di proprietà, è mia, abito a casa mia. Preferirebbe mutuo o affitto lei in generale? Mutuo. Perché? Perché alla fine poi l'alloggio diventa mio, dopo aver pagato il mutuo.